Benvenuti, bentrovati a Radio Puggino NER. Ora parliamo di un tema di grande rilevanza, attualità nel panorama politico italiano. L'incontro di oggi tra Beppe Grillo, il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, e Giuseppe Conte, attuale leader naturalmente del Movimento 5 Stelle. E questo vertice, tenutosi oggi, 14 giugno 2024, all'Hotel Forum di Roma, giunge in un momento di crisi e di riflessione profonda per il Movimento 5 Stelle, a seguito della recente sconfitta elettorale alle elezioni europee e anche delle critiche come quella del figlio di Casaleggio, Davide, delle critiche feroci a Giuseppe Conte e l'invito a dimettersi dal Movimento. Ma Grillo, dove era prima, perché non si è visto durante questa campagna elettorale per le europee? È sparito? Per quale motivo? Molti si aspettavano che comparisse, dicesse qualche parola, prima delle elezioni e non ora. Forse per rispetto di Giuseppe Conte, non voleva intromettersi nel momento in cui il leader in questo momento è Conte. Non lo sappiamo, certo, da artista, anche da comico, poteva almeno intervenire ogni tanto, farsi sentire. Sicuramente quella di Grillo è una voce che manca ai suoi fan e agli attivisti, ai seguaci del Movimento 5 Stelle che lo hanno seguito per tanti anni. Ma oggi è comparso di nuovo. Per comprendere appieno la portata di questo incontro, dobbiamo analizzare il contesto politico e le dinamiche interne che hanno portato a questo cruciale faccia a faccia. Le elezioni europee del 2024 sono state un momento di svolta per il Movimento 5 Stelle, con un risultato del 9,99%, definito dallo stesso Giuseppe Conte come deludente. Il Movimento ha visto riemergere tensioni e divergenze che covavano sotto la superficie. Il calo di consensi ha messo in discussione la leadership di Conte e ha riacceso il dibattito interno sulle regole e sulla direzione politica del Movimento. Giuseppe Conte è arrivato al tradizionale rifugio romano di Beppe Grillo con una battuta rivolta ai cronisti. Non vi fate troppi film. Questa frase ha avuto l'effetto di abbassare le aspettative su un incontro che molti vedevano come potenzialmente risolutivo per il futuro del Movimento. Tuttavia il vertice è stato descritto come cordiale ma anche interlocutorio. Non ci si poteva aspettare che questioni risolte da anni venissero risolte in un'ora e mezza di discussione. Durante l'incontro Grillo e Conte non si sono limitati a discutere delle questioni interne al Movimento. Hanno affrontato anche scenari politici più ampi, come è consuetudine per Grillo che è noto per la sua visione globale della politica. Questo approccio ha permesso di inserire le problematiche interne del Movimento in un contesto più ampio, rendendo evidente che le sfide da affrontare non riguardano solo la leadership o le regole interne ma anche la capacità del Movimento di adattarsi ad un panorama politico in continua evoluzione. Una delle questioni più urgenti emerse dalle recenti assemblee congiunte dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle riguarda le regole interne, in particolare il limite dei due mandati elettorali. Molti parlamentari ritengono che questa regola uccida nella culla le carriere politiche di persone capaci e dotate di un'appille nei confronti degli elettori. La richiesta di rimuovere questo limite è stata forte e chiara, con numerose voci autorevoli all'interno del Movimento 5 Stelle che chiedono una maggiore flessibilità per competere in modo più efficace alle elezioni amministrative ed europee. Nonostante le pressioni interne, Giuseppe Conte ha tenuto il punto sul fatto che il Movimento 5 Stelle non potrà cambiare più di tanto e dovrà rimanere un laboratorio politico. Questa dichiarazione ed intenti sembra essere un tentativo di rassicurare i membri storici del Movimento 5 Stelle, inclusi Beppe Grillo e coloro che lo seguono dalla prima ora che temono una trasformazione del Movimento in un partito tradizionale. Conte ha sottolineato che il Movimento deve continuare a rappresentare un'innovazione politica, anche se ciò comporta resistenze e sfide, forse anche meno compromessi. Sul fronte della linea politica le recenti assemblee hanno confermato scelte piuttosto nette sui temi come la guerra, il riarmo e il Medio Oriente. Tuttavia è emersa anche la necessità di posizioni più chiare sui diritti civili, di un avvicinamento alle tematiche care a buona parte del Partito Democratico ed Alleanza Verdi e Sinistra, forse che hanno ottenuto buoni risultati alle recenti elezioni europee, copiando in molti casi ciò che ha sempre detto il Movimento 5 Stelle. Un altro tema cruciale è la relazione con il Partito Democratico. All'interno del Movimento le opinioni sono molto divise. Alcuni vedono il rapporto con il PD come tossico, mentre altri ritengono che sia necessario costruire un'alleanza per il futuro. Diciamo che forse se prima non avessero fatto un governo con Salvini, poi non avessero fatto un governo col PD, poi non fossero entrati nella mucchiata di governo di Draghi, probabilmente ora non ci sarebbe la necessità di allearsi con il PD per poter affrontare questa destra che ha i numeri che tutti sappiamo. Insomma, probabilmente ormai coloro che seguono e votano il Movimento 5 Stelle dovranno adattarsi a qualche cambiamento perché purtroppo scelte fatte in passato probabilmente sono state scelte sbagliate. Non lo so, non sono io a doverlo dire, ma probabilmente ora è troppo tardi per dire che no io non mi allevo con nessuno, nemmeno faccio alleanze di governo, eccetera, eccetera. Si poteva fare prima, ormai probabilmente è troppo tardi davvero, vista l'ondata a cui stiamo assistendo. In un episodio oggi parliamo in particolare dell'inchiesta di Fanpage sui giovani, i gruppi giovanili di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia che davvero in questa inchiesta sono emersi come un movimento neofascista che pratica il fascismo, lo rivendica e vorrebbe instaurare un nuovo regime fascista. Dunque oggi è una giornata molto particolare, questo 14 giugno, perché con l'inchiesta di Fanpage.it si è scoperto un mondo che conferma le preoccupazioni di gran parte degli italiani su ciò che sta accadendo anche dopo il pestaggio squadrista che abbiamo visto ieri alla Camera dei Deputati nei confronti dell'Onorevole Donno. Insomma, la situazione diventa preoccupante e forse è inevitabile ormai un'alleanza sui temi e sulle soluzioni per combattere questa estrema destra, un'alleanza del Movimento 5 Stelle con la sinistra. Ripeto, molti come me si sono arrabbiati tantissimo quando il Movimento 5 Stelle ha fatto il primo governo insieme a Salvini. Io ne discuto con la mia compagna ormai da quando tutto questo è successo, ma non cambio idea. Secondo me quel governo non andava fatto, ci si doveva imporre per ritornare subito alle elezioni e se avessero fatto un governo tecnico, anche in quel caso, nonostante dicevano non potevamo non fare qualcosa, dicono molti del Movimento, visto che avevamo ricevuto la maggioranza, eravamo il primo partito, non potevamo non fare, non cercare di governare, cercare di arrivare a qualcosa, ma se lo fai con Salvini sai come va a finire, infatti lo abbiamo visto. Dunque, voglio dire, secondo me il problema è iniziato proprio lì e questo non potevamo non farlo, mi è sembrata sempre una scusa per farlo a tutti i costi e probabilmente se avessero fatto un governo tecnico pazienza, noi continuavamo a stare all'opposizione, non scendevamo a compromessi, noi non noi, nel senso io non c'entro nulla, noi impersonificandomi in coloro che fanno parte del Movimento, insomma noi conte, poi ancora peggio il governo col PD che invece entrati in Parlamento per la prima volta il PD l'avevano massacrato, no? E poi ci fai il governo insieme, ancora cosa? Ancora più grave il governo Draghi, quella mucchiata incredibile dove c'era pure Berlusconi? Cioè tu entri in una maggioranza di governo dove c'è Berlusconi? Se fai così hai chiuso, è finita, infatti abbiamo visto i risultati e non ci voleva un grande stratega, diciamo che la Meloni, rimanendo anche in quel caso all'opposizione, ha fatto la sua fortuna. La leadership di Giuseppe Conte è stata messa in discussione da diverse figure chiave all'interno del Movimento 5 Stelle, incluso Davide Casaleggio e altri attivisti. La disponibilità di Conte a mettersi in discussione è stata una mossa strategica per cercare di calmare le acque, ma la realtà è che al momento non ci sono figure alternative in grado di sostituirlo. Le vecchie figure di riferimento come Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono ormai uscite di scena, Luigi Di Maio perché si è fatto del male da solo diventando un draghiano e poi candidandosi con Draghi e poi dopo ha fatto quel flop incredibile e Alessandro Di Battista che ha scelto proprio perché non era in linea con le scelte del Movimento, cioè non accettava certe scelte così come quelle di cui abbiamo parlato poco fa, infatti è un pensiero quello di Alessandro Di Battista che condivido in molti suoi aspetti, dunque anche lui però ha scelto ora di fare un altro mestiere, il suo mestiere, quello di giornalista e scrittore per cui sappiamo che non ha nessuna intenzione di candidarsi, soprattutto non sarebbe così pazzo da farlo ora quando ha già dato la sua disponibilità nelle ultime elezioni insieme a Virginia Raggi che però avevano un'idea diversa dalla maggioranza degli altri politici del Movimento per cui sono stati fatti fuori e allora sono ormai usciti penso di scena. I gruppi parlamentari e i dirigenti territoriali sono in larga parte legati invece alla leadership di Conte. Se nelle ultime elezioni amministrative ci fossero stati tra i candidati anche Alessandro Di Battista e Virginia Raggi probabilmente sarebbero andate meglio le cose, però una serie di scelte probabilmente sbagliate o forse no, non so, fatemi sapere cosa ne pensate voi, questa è la mia analisi che hanno portato a questa situazione. Beppe Grillo dal canto suo continua a svolgere un ruolo fondamentale come garante del Movimento anche se non si vede più praticamente. A parte oggi che è comparso un attimo entrando in hotel, la sua visione politica e il suo approccio alle questioni interne ed esterne rimangono cruciali per il futuro del Movimento. Grillo ha sempre sostenuto l'importanza di mantenere l'identità originaria del Movimento 5 Stelle resistendo alle spinte verso una normalizzazione che potrebbe trasformare il Movimento in un partito tradizionale. Tuttavia anche Grillo dovrà confrontarsi con le nuove dinamiche e le richieste di cambiamento provenienti dalla base e dai parlamentari. Guardando al futuro il Movimento 5 Stelle si trova ad un bivio. Da un lato c'è la necessità di adattarsi e di evolversi per restare rilevante nel panorama politico italiano, dall'altro c'è la volontà di manifestare fede ai principi originari che hanno caratterizzato il Movimento sin dalla sua fondazione. Tutti ricordiamo il Waffa Day, insomma. La crisi dei consensi elettorali rende questa scelta ancora più urgente. La decisione verrà presa nei prossimi mesi, speriamo al più presto, saranno determinanti i prossimi giorni per il futuro del Movimento 5 Stelle. E io, che lo confesso, ero un grillino della prima ora. Ammiro e mi piace tantissimo l'eleganza, la cultura, la diplomazia di Giuseppe Conte, ma sinceramente mi manca moltissimo il vaffanculo di Beppe Grillo. Perché dentro quel vaffanculo, al di là di come l'hanno dipinto, l'hanno dipinto come populismo, eccetera, eccetera, ma dentro quel vaffa di Beppe Grillo c'era l'unica nostra speranza, l'ultima ancora di salvezza. Ed è quello che si diceva dieci anni fa, esattamente dieci anni fa. Quello che si stava provando a fare dieci anni fa. Dieci anni fa, quando alcuni di noi avevano finalmente trovato un'ancora, è bello sperare che questa ancora domani ci sia ancora. E non potevo concludere con una frase un po' poetica. Vabbè, è il mio difetto da cantautore. Ma concludendo, l'incontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte segna un momento di riflessione importante, profonda e di possibili cambiamenti, nuovi scenari per il Movimento 5 Stelle. Chissà se ci sarà un ritorno alle origini. Le sfide interne, le dinamiche politiche esterne e la necessità di adattarsi a un panorama molto cambiato richiedono una leadership forte, una visione chiara per il futuro. Sarà interessante vedere come Conte e Grillo affronteranno queste sfide e quali direzioni prenderà il Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi. Grazie per averci seguito in questo speciale e continuate a seguirci qui a Radio Puginioner.